La ricerca, la sperimentazione, l'ingegno, hanno sempre fatto la differenza e sempre la faranno. Nascono così le innovazioni migliori, quelle che ci fanno vivere meglio e in modo più sostenibile per l'ambiente. Nascono così anche le superfici ceramiche Active Surfaces. Abbiamo sempre lavorato per garantirci un futuro a misura d'uomo, un futuro in cui l'architettura possa inserirsi nell'ambiente naturale in modo armonico. Con Active Surfaces la ceramica diventa un materiale equattivo, in grado di ridurre gli inquinanti nocivi, eliminare batteri e virus, contrastare l'inquinamento olfattivo e semplificare le operazioni di pulizia. Active Surfaces si basa sulle proprietà fotocatalitiche del biossido di titanio, che grazie all'argento si attiva con la luce visibile ed esprime al massimo la sua forza antinquinante e antimicrobica. Active Surfaces funziona con la luce naturale, artificiale e anche con luce a LED. Grazie alla cottura a 680 gradi, mantiene la sua efficacia per tutta la durata del prodotto ceramico e le sue proprietà intrinseche rimangono inalterate. Active Surfaces elimina il 99,99% dei batteri e dei virus, dai più comuni ai più insidiosi, anche in assenza di luce. È inoltre efficace anche sul coronavirus SARS-CoV-2, responsabile del Covid-19. Disgregando le molecole organiche presenti sulla superficie della ceramica impedisce nel modo più naturale anche la formazione del biofilma. Per lo stesso motivo contrasta la formazione di muffe e funghi, un'azione fondamentale in moltissimi luoghi pubblici e importantissima in qualunque ambiente domestico. Grazie ai processi fotocatalitici che avvengono sulla superficie del biossido di titanio, le principali molecole organiche responsabili dei cattivi odori si degradano, rendendo più confortevoli i nostri spazi di vita. Active Surfaces rende la ceramica superidrofila. Pulirla è meno costoso, sia in termini economici che ambientali, perché lo sporco aderisce con più difficoltà. E basta la pioggia a lavarlo via. Gli ossidi di azoto e composti organici volatili sono pericolose molecole presenti nell'aria. Quando entrano in contatto con le superfici ceramiche di una facciata Active, vengono decomposte e trasformate in sostanze innocue. In questo modo, un solo edificio vale un intero bosco. Contrariamente a quanto si crede, anche all'interno di case e uffici sono presenti diverse sostanze inquinanti. Pavimenti e rivestimenti Active migliorano la qualità dell'aria che respiriamo tutti i giorni, diverse ore al giorno. Active Surfaces è un'innovazione che nasce dal genio imprenditoriale italiano, sviluppata in collaborazione con l'Università di Milano. Dalla sua nascita nel 2009, ricerche e sperimentazione continuano a migliorarne e a certificarne le performance. L'efficacia di Active Surfaces è garantita da numerose certificazioni ISO e protetta da due brevetti che tutelano la combinazione di biossido di titanio e di argento e le dimensioni micrometriche del biossido di titanio. Particelle di queste dimensioni preservano infatti anche il benessere di chi lavora a contatto con questa sostanza. Le superfici Active provengono da stabilimenti a emissioni zero, contengono il 40% di materiale riciclato e sono riciclabili. Avendo proprietà anti-inquinanti, in due anni compensano le emissioni di NOx e VOC generate per produrre il materiale. Successivamente, Active Surfaces continua la propria attività a favore del nostro benessere. La ceramica valorizza elementi naturali e vitali come la terra, l'acqua e il fuoco. Active Surfaces ne fa una superficie attivamente impegnata per un'architettura più sostenibile e più attenta al benessere di tutti noi. Active Surfaces, where design and science meet, beauty and well-being live. Active Surfaces, where design and sorcery è un'architettura più sostenibile.